Burloni, oggi su Minecraft avremo 15 minuti per prepararci per poi combatterci alla fine Possiamo preparare tutto quello che vogliamo ragazzi Possiamo farci armature in diamante, armature in ferro La cacca? Ciao sono riapporto Possiamo fare davvero tutto Ora prendete tutti i vostri utensili che ci sono all'interno delle chest Attiviamo il timer Ma prima di attivarlo voi dovete assolutamente inserire il mio canale perché è molto importante Se ancora non l'avete fatto perché molti guardano i video ma Ma Non sono iscritti E se raggiungiamo i 15.000 mi piace Buddy fa un video sul suo canale di un'ora mentre scava dritto Mi piace lo fa Perfetto Alexa in post on timer di 15 minuti Yes si inizia Si vola si vola si vola ragazzi Io ho deciso che vado direttamente giù per trovare i diamanti ragazzi Ma cosa vale infatti? Non l'abbiamo detto Il carbone No ragazzi non vale niente dobbiamo prepararci per l'arena Dobbiamo equipaggiarci Che sì ragazzi? Ma c'è qualcosa di speciale tipo No ci sarà una sorpresa che vi farò vedere io alla fine Uh vabbè Ho trovato i diamanti subito ragazzi Ma come stavate dire? Ma vai schifo Giuro giuro ho trovato i diamanti subito Ma che fortuna Hai trovato un axolot? Ma veramente? Posso portarmi un axolot? Quello rosa è trovato Anche io lo voglio axolot Marrone Ok perfetto Poi serve sullo smiting table vero? Per farlo diventare Sì sì Serve sullo smiting table e di diamanti e tanta voglia No ragazzi vi posso dire solo una cosa Che nel nether Ecco questo ve lo posso dire Spuono tantissime nederite raga Tantissime nederite spuono Veramente? Ma c'è bene nederite Sì sì Tantissime nederite Ma si siano anche i diamanti che saranno nederite Eh lo so Hai ragione di quello Uh ferro ho trovato Mi serviva solo il ferro praticamente Un po' di gravel Grevel Un po' di gravel Un po' di gravel Mi serve là che Oh qua c'è qualcuno con me Ciao Nico me ne vado Dove? Ti lascio Dove sei? Me ne sono andato via Non ti preoccuparti Ti ho veduto Basta che mi lasci stare Ah va bene va bene Oh guarda Io voglio chiamare Sì 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 Un fleet preso Allora facciamo così Allora ti offro Uno stack di cobblestone Per 20 diamanti Sì vabbè Perché No scherzo li ho trovati Io ho un po' visto Odianto Mamma mia ragazzi Ma quante ce n'è Di che cosa? Ma quante ce n'è Oddio ragazzi È pienissimo di nederite Ma pienissimo proprio ragazzi C'è tipo Ce n'è tipo troppissimo Quindi 4 Allora 4 di Di scrap Fanno un nederite Giusto? Esatto Di scrap Fanno un nederite Più un oro Ok Quindi me ne saranno Un bel po' Eh saranno tanti Lo sai quanti diamanti O Marci? Dimmi quanti 13 Cavolo Ma sei fortissimo Io ne ho Grazie Loco cavolo Meriti veramente di vincere Oggi se fai 6 giochi così bene Proprio bravo Quasi quasi È più un bravo ragazzo Due stacchi di cosa? Due stacchi di nederite ti serve? Sì due stacchi di nederite Voglio fare una roba raga Cosa vuoi fare? Voglio provare a vedere se riesci a fare full tool Però non so se ci riesco Full tool? Full tool Full tool E che ti fai? È una tua canzone Nico Bene io penso che nel neder ho fatto dato che ho trovato un sacco di nederite Diamanti ne ho già trovati due che erano quelli di prima che ho uscito lì Va benissimo Ho bisogno di un sacco di diamanti ragazzi Sapete di quanti diamanti ho bisogno? Volete veramente saperlo? Volete veramente saperlo? E dicelo però Me ne servono 27 per fare quello che voglio fare Ma cosa vuoi fare? Eh ragazzi non potete saperlo Vuole fare 27 armature Ragazzi ci sono Sì Qua bisogna andare rispetto a Z negativa È di qua Quindi qua bisogna trovare i diamanti in teoria Sotto La matematica non è un'opinione giusto? Non ha funzionato moltissimo La matematica a quanto pare è un'opinione È un'opinione sì Diamantini piccolini Ne ho già Vanno otto Otto vanno benissimo Otto sono perfetti ragazzi Ma scusavano te ne servono 27 Eh 27 Piano piano li faccio tutti Dammi un attimo Cioè non è che Guarda io mi faccio full ferro a sto punto raga Basta E non trovo neanche un diamante Ne ho 11 Anche io penso di farmi full ferro alla fin fine Full ferro totale Full ferro Full ferro proprio Full ferro sì sì Questi altri diamanti Altri otto ragazzi C'è io sono fortissimo Altri diamanti Chi è che l'ha lasciati qua? Qualcuno li ha lasciati qua Non ci posso credere Qualcuno li ha lasciati Qualcuno li ha lasciati Qualcuno li ha lasciati Erano vicini al tuff in alto Non li avete visti No Era mio Allora tunnel del tuff No dai No dai No no Buddy per porco indietro ti puoi givevare tre diamanti No va bene Guarda io non lo faccio Guarda io non lo faccio ma Buddy givevare anche meglio Capita anche nei miei video Cioè capita anche nei miei video raga Io non ti dimentichi di scavare i diamanti Non guardo sopra la mia testa è bloccata in un angolino Guarda per terra Eh sei il tercicollo Anche quando cammino così Sei un po' un idiota comunque No dai Decisamente Ma guarda io devo dire Cioè io non so Porca paletta eh Porca paletta Dai che non ne trovo alti Me ne servono altri Managgia Altri otto Me ne servono Altri otto Dai dai Ti prendi A me si ricrena i blocchi davanti alla faccia Comunque ragazzi Tranquille No non è normale Tranquille 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 Uh che bello ragazzi È tipo Tanti diamanti Godo Alla uno Matteo smetti Tre Quattro Cinque Come sei ragazzi Sei diamanti Sei diamanti Non è possibile Ragazzi ce lo giusto Ragazzi ce lo giusto Ma ci si dice Ma per l'armatura? Eh? Cosa devi fare l'armora? No no È una sorpresa che vedrai alla fine Ma ci puoi dire il tuo segreto per i diamanti? Vorrei saperlo anch'io Ma non dire che ero tratti meno di loco probabilmente Quanti ne hai loco? Può darsi Io ero 29 Io ero 27 Ma è sempre così tanto Perché lo fa Slash give Capito no? Perché Ah certo Ma non può farlo Io cerco solo diamanti No ragazzi Ho un oggetto che non avrete mai voi La melo b No Che inutile Cos'è? Un disco tipo Ancora più inutile Le Barry Quelle trasparenti Ah oltre i denti Ma non ci posso Ma non ci posso Cioè nella bing Non succederebbe mai questa cosa A me c'è una livello 7 Ecco perché non te lo diamanti Ma fa danno un sto cosa almeno Sì Ragazzi Senza incantamenti Ragazzi come faccio? Mi serve Vabbè devo fare una cosa La cacapulta La cacapulta La cacapulta La cacapulta La cacapulta La cacapulta Allora sì Aspetta un attimo Quello è confuso No io Allora sì Sta citando Sta scrivendo qualcosa L'ho sentito Senti senti stai gifando Se vi tipate da me Si vede Cosa sto facendo Vai da andare Nel Nether Vabbè Come vai nel Nether Nel Nether Non andare Non è importante Nel Nether Nel Nether Nel Nether Ce l'ho fatta L'ho craftata Ok Dai veloce Marchi Ti prego Ce la puoi fare Zombie Zombie Ti prego Zombie Ragazzi Questa cosa Non avete idea Voi non avete Minimamente Di cosa Io abbia appena Ma Perché c'è sempre La sorpresa Comunque Io non è che Tanto ragazzi Molti di voi Queste cose Questa qui La conosce già Qualcuno di voi Questa cosa Non avete idea Ragazzi Io non è che Io non ho chiamato Contato con scritto Scusami Facciamo Le sorprese A fine video Perché Ragazzi Non mi funziona Dovrebbe funzionare Doveva fare qualcosa Adesso ha funzionato Ma quando dicevi Molta nederite Sì Non pensavo Così tanta E tantissimo Vatti Ogni volta Sei lì Mamma mia Mi mia suocera Però l'ho ucciso Addirittura No stai scherzando Mi sono chiamato La mia suocera Questa è una vita Questa è una vita Questa è un'altra Io non me l'aspettavo Sinceramente È cattivissima Come cosa Sì Non posso ucciderlo Come ce l'esiste Ah è vero Abbiamo resistente No No Pesantissimo Questa cosa Mi lo trovo Più che legge No words No words Ragazzi Dai Fatti schifo Mamma mia Ragazzi Ragazzi Dopo vi ricordo Dopo vi ricordo Che abbiamo tempo Di craftarci le cose Ma come tempo Io mi sono già Craftato tutto Non ti preoccupo Dopo avete tempo Raga Tranquilli Non vi preoccupate Sto scavando Come se non ci fosse Un domani Ok Per favore Io se l'ingotti Le derite Fammi vedere No Stai lontano Smetti là Io voglio avere Full ferro E dimostravi Che il ferro è top Il ferro è avanti Ma devi diamanti Ti dobbiamo subito Sì dammi un secondo Se me li puoi regalare Li posso prestare Se vuoi Sì sì grazie Gli diamanti qua tipo Non funziona sta cosa più Ragazzi Ho sbagliato La resource pack Questa cosa Questa fantastica Poi vedrete Cosa è qua Pazzia Emozionante Oh mio dio Ragazzi Oh mio dio Che cosa Ho successo Ragazzi Mi giuro Sto malissimo Ho 27 diamanti Comunque ancora Vai ragazzi Posso fare tutto Posso fare tutto Posso fare tutto Raga sto volando Mi serve dell'oro Mi serve dell'oro Raga Guarda i diamantini In più Come si fa Oro 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 Ma cosa c'erano Ma cosa c'erano Ma cosa sta facendo questo Ma venire poi Non so Raga Non potete capire Non ci potete credere Alexa basta Ho finito Alexa basta Ok Andiamo su Ok adesso avete del normalissimo tempo Per farvi le vostre cose Noi siamo già pronti Noi siamo già pronti Noi siamo Da marci Noi Io non ho niente di pronto Ok Allora va bene Niente ferro Va bene Perché loco dice che il ferro Non va bene Mi fido di loco Ok loco E tu fidati di me marci Va bene Io mi metto full nederite Quindi Ok No fido di scrap Mannaggia Come faccio Full diamond Dai full diamond Va benissimo Allora facciamo così 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 Sì dai Così va benissimo Sì A voglia Siamo pronti Sì quando vuoi Sto costruendo l'arena Dammi un attimo No tranquillo Dai 3 2 1 Si può iniziare ragazzi Vai Ma di già Anche loco Full nederite 10 10 10 Oh ma che cavolo Ah brucia Sera Così Così sta esplodendo E pazzo Questo è pazzo E pazzo Ma che cavolo sta bruciando Anche dall'acqua Niente loco Niente che ti deve E come ti spieghi Ma che c'è Quello Ma è pazzo Quale è pazzo Nico è pazzo Sta lanciando cose Sono morto Eh scusate Cosa sta facendo Cos'è Nico alleiamoci E' troppo E' giù No non puoi Non puoi Vieni qua No ma che cavolo Non puoi Ho preso col tridente Ma con il raga Comunissimo Comunissimo Mi scappa Zito raga Ma cos'è che ha fatto Nico Come cavolo hai fatto a fare quella roba Nico Vieni qua loco Dov'è loco Manca solo lui Loco Cosa sto vedendo Ma dov'è loco Dobbiamo tolito E' nel tunnel Non puoi tolito C'è la existence ancora lui ragazzi Ma c'è dell'acqua Perché voi non ce l'avete lui si Dovete La tolite La tolite La tolite La tolite La tolite Ok l'ha tolta adesso E io l'ho tolto E vabbè dai Ragazzi Ci vediamo in un prossimo video Da Marci Aker è tutto Ciao a tutti Ciao Ciao Ciao